ehi la ciurma allora la situazione è ancora molto impegnativa vediamo un po cosa riusciamo a portare a casa scusatemi mi devo un attimo sistemare cosa riusciamo a portare a casa da questa guerra allora siamo innanzitutto in una buona situazione perché abbiamo visto che la mauria accetterebbe delle condizioni di pace mica male in cui riusciamo a prendere buona parte del confine solo che la cosa interessante che visto che siamo in messi così bene potremmo vedere se riusciamo ad avvicinarci qui probabilmente non riusciamo ad arrivare per seppoli ma magari anche sì o comunque riuscire a prendere un pezzetto di costa qua sotto che non sarebbe male anche dal punto di vista strategico per creare poi un'armata anche navale in futuro contro di loro perché attualmente non avendo dei porti qui vicino è completamente sconsiderato il tenere delle armate quindi direi che cerchiamo di fare il possibile in modo da avanzare e e cercare appunto di prendere il nemico fintanto che non è preparato ci stanno arrivando altre truppe no non abbiamo più truppe là al confine se fosse solo quelle 25 mila la difesa dei barbari nulla allora andiamo stiamo avanzando e direi avanziamo in tutto per tutto quindi con quelli andiamo là ma con questi non andiamo là ma andremo qua sotto allora andate qua presto allora iniziano ad arrivare iniziano ad arrivare no no mi vengono addosso si schiantano così non credo no allora oh sono 85 mila non so se ci conviene prendere tutto questo trito cosa ci darebbero ora come ora questo più tutti quei soldi direi che possiamo anche accettare libererebbero qualcosa allora liberate chi è tilos non solo roba piccola c'è questo che è due ci sta uno da tre invece non ci sta mi sa eh no mettiamo questo che è da due ce n'hai altri da due più ma non so neanche dove siano questi dove sono questi ai liberiamo ai non so cosa dire e tutti i loro soldi mi sembra buono anche perché poi dopo non avranno soldi per poter reclutare ulteriori truppe mercenari nel prossimo futuro vada 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 conclusa e devo dire che non possiamo che essere soddisfatti di questo perché non abbiamo combattuto allora abbiamo delle nuove province in cui non abbiamo dei governatori abbiamo sempre quello super mega corrotto allora ad Alessandria adesso andiamo a vedere dai ad Alessandria allora spostiamo ma posso costruire scusate degli altri granai facciamo nove granai così magari non mi muovi mai più di fame ah no non mi interessano le navi ah è quello da 110 che è morto l'ammiraglio mettiamo questo ok ah no c'è una Scorned Family no ci manca un governatore in Mesopotamia mettiamo questo che non è fortissimo vabbè ce lo faremo bastare al momento allora qua c'è un posto dove questi non mi muoiono di fame ok la non mi muoiono di fame questi facciamoli avanzare perché dobbiamo tenerci pronti per le prossime battaglie per le prossime guerre vai la quindi voi non andate fermatevi qua questo posso colonizzarlo? what? è di guerra guerra vuoi essere il mio vassallo? posso non mi vogliono bene per l'aggressive expansion allora proviamo un attimo a fare un improve relation vedere se riusciamo a vassalizzarli con le buone se no li piccheremo con le cattive possiamo poi prepararci magari contro la rivolta Seleucide a breve per espanderci in quella direzione anche se no credo che quando ci andrà via l'aggressive expansion ci prepareremo alla guerra successiva contro la Mauria perché ricordiamo che per la nostra decisione ci mancano ancora quante posti cinque oltre a Gordione l'altro Gordione possiamo chiederlo in questo momento siamo ancora in tregua sì fino all'87 ok due anni ricordiamocene devo dire che la situazione è andata davvero molto molto meglio di quanto pensassi non abbiamo mai dovuto combattere che è stata un'ottima situazione vabbè andate in qua intanto questi li faccio avanzare qua, questi avanzano qua, questi avanzano qua così pian pianino spostiamo la gente in quella zona perché comunque il nostro focus in questo momento sarà là sarà la Mauria per quanto possibile queste sono colonizzabili? No, non sono colonizzabili ok, l'abbiamo un porto quindi facciamo che le nostre 20 navi qua no, io volevo selezionare le navi, non le ho selezionate no infatti, non ha fatto il rumorino allora qua Roma vuole importare del vino ma si dai Roma, bevete la nostra salute allora abbiamo sconfitto la Mauria che è un'ottima cosa, cioè sconfitto in realtà è una vittoria un po' stupida questa ma... ah, loro ci stanno ok, allora muoviamo tutti più avanti questi li mandiamo qua questi qua ci stanno, si no, facciamo che passate così ehm? in modo da non prendere dell'attività stupido ok ok no, no, non facciamo andare questi questi fanno schifo allo schifo eeeh oh, oh ok ah no, ma anche... no ci sono gli altri qua lassù muoviamo questi muoviamo questi avviciniamo questi niente, li danno dei comandanti ridicoli non ne vale la pena no, no, no non ne vale la pena ok ci sono delle province libere? si, qua quella eh, per ora non risolviamo il problema ma lasciamolo così com'è no, quando siamo andati via gli altri non dovremmo avere problemi, no? quindi muoviamoli là questi dove stanno andando? là? qua? a Susan da te sostrate questi invece andate qua e poi qua a Susan poi voi andate in Cissia Cissia non è qualcuno di decente ma scusate abbiamo quello da undici non l'abbiamo mai usato, vabbè 11 5 no, 5 sono qua Quattro saranno qua E gli altri Lì teniamo qua vicino Questi 26.000 non sono miei tra l'altro Dove sono quelli da 11 allora che E' lui? No? Sì? No? E' questo sì Quello da 11 lo mandiamo qua Ok Ah ci stanno andando Ok non capivo Stato abbiamo il massimo del manpower Non dovremmo avere dei problemi in questo momento C'è chi supporta la persona sbagliata ma Eh non è un problema Intanto loro hanno fatto dei Hanno lasciato delle truppe qua al confine Che non è una buona cosa Però non hanno soldi Hanno diminuito i loro corti perché Ha un problema da quel punto di vista Quello che mi auguro è che abbiano finito i soldi E vendono dei mercenari Così non possono smantellarli Perché per smantellarli devi pagare loro lo stipendio Posso costruire delle navi qua? No Dall'altro lato posso costruire delle navi? No Devo fare degli import export qua Allora Trade route C'è chi mi dà del legno? Sì Chi? Ah i miei Vai Sotto di una stessa provincia Sì Sembra di sì Sì Quella provincia costiera è tutta unica Allora Direi che Facciamo Quanto ne ho messo in coda Unit construction Pique in dici Ne avranno per parecchio Mi sa Da costruire Nell'87 avevamo La tregua qua Con questi Eh? Sì Allora Cosa ci date voi? La gagne Vada E nel 97 Ci daranno gordione Noi adesso confiniamo con Cossio Sì Confiniamo Posso fare un threat and war? Sì Quanto è lontano la provincia che ci serve? Eh posso lasciare il tempo andare E' abbastanza lontana Però non lo so se riusciamo ad arrivarci Perché se andiamo a dieci anni Di dieci anni in dieci anni Ma No tra l'altro non è gordione quella Non è Cossio E' degli altri E' di questi violini E' sotto la partia Vaffanbrodo Vaffanbrodo Può essere un bel problema questo Però loro sono alleati con la partia in realtà Quindi se noi dichiarassimo guerra a loro Allora sono alleati Però se lei uccide Armenia e partia Se io entrassi rapidamente là Se io posso fare fino a un certo punto in realtà Potrei prendere anche Loidikea Noic Batana ci serve Mi sa che è l'unica Niente Niente prepariamo una guerra contro l'impero se lei uccide in questo caso Allora C'è contro tutti Contro tutti questi Sì dobbiamo assolutamente Perché se vogliamo farci In realtà non penso che ce la faremo Perché non riusciremo ad arrivare a quegli altri Non riusciremo ad arrivare a quei tre credo Che sono davvero molto molto lontani Questo lo prendiamo senza problemi Ma laggiù in fondo È un discorso davvero complesso Abbiamo una cinquantina d'anni a disposizione Stanno facendo dei forti loro? No non sembra Dobbiamo comunque Non c'è altra possibilità Take Garamea Qual è Garamea tra l'altro? È quella Allora vediamo un attimo Loro quante truppe hanno? 33 Non è un gran che Questi ne hanno 33 Hanno dei soldi per caso? Non hanno soldi No questi sono sempre loro 40 ne hanno La partia ne ha 42 E Armenia ne ha 20 Ma ha tanti soldi È importante che dichiariamo guerra comunque Ma è davvero molto molto importante Abbiamo appena messo in qua Mi sa che muoveremo dall'altro lato In questo momento Il problema è che Loro sono all'attica con Armenia Che potrebbe entrarci da altre parti Vi hanno dei forti qua a coprirci Sì Sì Dovremmo essere abbastanza Tutelati Tranne là Da qua un forte potremmo effettivamente farlo Facciamo una fortezza E siamo pronti? Aspettiamo che arrivino quelli da là sotto Dove? Ah sono là Muoveremo anche questo qua da 13 Fin dato che ce li abbiamo Come sono messi qua a corti? Stanno sbantellando delle corti No ne hanno fatte comunque Andiamo di solito Come fanno? Ah ma hanno meno 57 al mese Perché sono messi male come Che lei è bloccato Dai pirati Ma vaffan brodo stupidi pirati Ci siamo? Dove sono? Dai Ricordiamoci nel 97 Di prendere Gordione Ho sta tregua con la Mauria Fin quando dura Nel 27 Oh porca miseria Cavolo Come si chiama? Mardi e bene Mardi e Mi sa che saremo bloccati Da quel punto di vista Abbiamo una tregua troppo lunga Non abbiamo preso così tante province Dai No non l'impero sereo Ci richiamiamo guerra a loro Pronti? Vada Questi sono quelli da 13 No Ovviamente Ci ho detto di selezionare l'altro Ok No cosa fate voi Aspettate un attimo Poi ci viene tutta la gente scarsa Si ok Sono in guerra con tutta sta gente qua Potrebbe essere un gran bel problema Cerchiamo di farla rapida Poi gli altri li mando là Ah No non posso andare oltre Perché c'è il forte Là che ci blocca Allora Allora Ci hanno preso i mercenari quelli Aspettate 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 Andiamo qua Con questi mercenari No No Non sono messi così bene Come morale Aspettate Aspettate Vediamo Come risolvere qua La situazione La situazione Ah Qua sta cedendo Sotto i fronti Qua Non si è ammessi Benissimo Ah Facciamo salire Su questi E questi E questi La perdiamo La perdiamo E invece no Ottimo No Tutti Tranne I mercenari I mercenari State qua Oh Li ho tolti Solo per evitare Che li assumessero Loro Allora No Quali sono Cos Non dovremmo Avere problemi Da quel punto di vista Vadi Voi andate a Uruk Voi andate La Non posso andare Perché è bloccato Da che forte Da questo No Andate qua Teniamoci un attimo Qua questa mappa Perché devo cercare Di capire chi è Dove Sono tutti Della stessa tonalità E' tardi Interrompiamo qua l'episodio E ci vediamo Nel prossimo In cui cercheremo Di completare a termine Questa guerra E speriamo Di riuscire a prendere Il Terzo Ultimo Quanto è Quarto Quinto Quarto Ultimo Non ce la faremo mai A finire L'accement Cioè a finire La decisione Però vabbè Ciao a tutti E buona giornata E buona giornata Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.